Ciao creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di CosaE, ESMA. Come al solito non mi sento al centro della mia videocamera, della mia inquadratura, comunque questo video lo voglio dedicare a Francesca che mi ha fatto questo commento super carino che non mi aspettavo. Anche adesso andrò a leggerlo, mi ha scritto, mi ha fatto la donazione di 2 euro, dopo ti spiego creatura anche questa cosa, la donazione di 2 euro e mi ha scritto Magari ci esce una nuova camicia bianca, spero la trovi, se no ce ne scappano sempre 4 da 50 centesimi immancabili. Allora, io Francesca ho deciso di dedicarti questo video perché ti ringrazio tanto per il tuo gesto così super carino. E anche volevo dirti a te e a tutte le creature del regno che se volete fare delle donazioni, scegliete voi, vi spiego come funziona. E se donate tramite quello lì, il ringraziamento, il grassi di Youtube, una parte dei soldi vanno a Youtube. Invece è per quello che ho tolto gli abbonamenti perché non era tanto un supportare il creator perché a me di quei soldi che mandavate arrivava proprio niente. Cioè era un po' una... ecco da parte di Youtube perché si prendeva la maggior parte della percentuale e a me dispiaceva che voi mandaste soldi perché arrivassero a me per supportarmi perché avevo detto che è così e continuerò a farlo, che i soldi che mi mandate come donazioni le uso per creare video, cioè per acquistare cose, per fare nuovi video eccetera eccetera. E' un'altra diciamo un investimento per il canale ecco, che è un investimento appunto per il canale per rendervi i contenuti sempre più interessanti. Però appunto se volete che queste donazioni arrivino direttamente a me senza tasse e robe varie c'è il link in descrizione di Paypal. Ecco, però se voi volete mandare questi due euro simbolici giustamente la piattaforma ci permette di caricare i video quindi vi va bene che una percentuale vada anche a Youtube, cioè ognuno fa quello che vuole ecco. Però volevo chiarire queste due cose e anche il motivo per il quale ho tolto gli abbonamenti perché comunque non riuscivo a... cioè non mi arrivavano tutti i soldi che voi donavate e era un peccato perché magari le vostre aspettative erano... eh ma hai ricevuto tutti questi soldi che non erano comunque tanti perché avevo messo gli abbonamenti quelli minimi e era un po' insomma un... magari creava aspettative a voi, a me non permetteva di fare quello che veramente... cioè se li avessi ricevuti davvero in tutti interi avrei potuto fare di più di quello che ho potuto fare con... io adesso non mi ricordo quando era per il centrale ma è veramente minima di quelli... dei soldi che arrivano effettivamente al creator, quindi ecco... e quindi se volete che mi arrivino i due euro pieni diciamo c'è il link di Paypal, ecco... io ringrazio sempre tutte le persone che mi supportano anche con queste piccole donazioni perché sapete che con anche pochi soldini io riesco a fare... a comprare delle cose bellissime non ho rispettato la tradizione questo martedì ma ho i miei buoni motivi adesso te li andrò a elencare ma cosa è successo? avevo detto che non sarei andata per un po' al mercato ma il mercato come sai è martedì e io un'idea aveva piovuto e martedì era nuvoloso, quella temperatura giusta che dici cavolo... una bella passeggiatina al mercato ci starebbe... anche se sapevo che ci sarebbero state molto meno banchi perché... tanti erano in ferie bancarelle e quindi... ho detto... ero anche un po'... ti devo confessare che ero anche un po' triste... ecco... un po' triste in questo periodo e... per motivi miei insomma privati e quindi... ho detto... vabbè... sai che c'è? io... non importa anche se troverò due bancarelle vado lo stesso a farmi un giro così mi sono fatta una passeggiatina non c'era... non si moriva dal caldo come gli ultimi mercati che ho dovuto affrontare però... alla fine... non ho comprato appunto... la camicia quella da tradizione anche se come da tradizione potrei dire ho acquistato alla bancarella da 50 centesimi anche perchè lei c'era sempre fissa e... che poi ti racconta anche una cosa divertente una simpatica insomma così... un po' così che è successa e... eh... certo spoilerato e poi ho anche... eh... due cose che mi ha... eh... comprato mia madre a un altro mercato perchè... a Rovigo ho scoperto anche che c'è un piccolo mercato il giovedì non l'ho mai visto non so neanche dove sia e... eh... al sabato c'è un altro mercato in un altro punto di Rovigo che è comunque sempre più piccolino ma sempre alcune pancherelle che ci sono anche al martedì e quindi io inizierei subito con i... gli acquisti che ha fatto mia madre e poi ti mostro i miei e... non ho detto scusami perchè pensavo di dirlo dopo ma effettivamente stava nell'elenco e... questa volta non ho preso camicie perchè mi sono accorta appunto che ne ho tante e dopo un po' mi dico... piano... ecco a te piano rallenta ne hai troppe e però ho preso delle cose utilissime per questo periodo qui in cui non si capisce se c'è caldo se c'è freddo e come bisogna vestirsi no? ho preso una di quelle... alcune cose che dici i cini che urlano e... ho preso quelle... ho preso quelle cose che sono tipo da mezza stagione si dice così ma non dico altro perchè sono spoiler se mi segui su instagram ci hai visto abbiamo fatto un piccolo sondaggio per decidere adesso ti... mostro allora mi ha preso questa... non è una canottiera ma è uno smanicato c'è differenza perchè eh... lo smanicato è tipo una t-shirt però è senza le maniche perchè lo specifico perchè a me le canotte non piacciono no? me le metto solo quelle da intimo ma da mettermele eh... tipo in estate non lo so perchè mi danno... mi fanno sentire a disagio ecco un'altra cosa da sbloccare vabbè stavolta abbiamo sblocato eh... le ciabatte e... prossimo anno sbloccheremo le canottiere va bene? ricordatelo creatura prossimo anno non ti ricordameli ma... a posto e... comunque eh... praticamente è uno smanicato nero ed ha queste catenelle mhm... qui intorno alle... alle maniche tagliate il sondaggio era tolgo la catenella o la lascio e... eh... aspetta che guardo quanta percentuale ha vinto so che ha vinto so cosa ha vinto ma non so che ha percentuale perchè non me la ricordo attualmente ma adesso andiamo in diretta a vederla allora io di solito vado nell'archivio di instagram e mi fa rivedere tutte le cose che ho pubblicato tra cui anche i sondaggi vediamo un po' dov'è eccolo qua l'ho pubblicata il 17 agosto allora hanno... hanno... ha vinto eh... catenella si con 96 voti con l'81% quindi cerro le catenelle questa l'ha pagata 2 euro molto carina è una taglia ah... una taglia unica sai che tutti... tu... cosa tu... una taglia unica se vedete che ho cambiato pettinatura e che mi sono caduti mi scivolano le cuffiette perchè le ho messe sopra i capelli perchè ogni tanto voglio anch'io stare non c'è caldissimo quindi volevo stare con i capelli un po' così in piega eh... però appunto mi scivolano le cuffiette no ma... comunque eh... lei se l'era presa uguale identica giorni fa eh... beige color tipo beige cam... cammello non so bene come si chiama e ha tolto le catenelle perchè a lei non piacciono e e mi aveva fatta vedere ha detto guarda che ci sono queste qui a 2 euro al mercato se vuoi eh... te ne prendo una eh... ci sono anche nere e grigie io ho detto vabbè se c'è nera prendimela nera altrimenti va bene anche grigia perchè sapeva che beige non me la sarei messa e eh... eh... ehm ho pensato già all'outfit per indossarla eh... cioè mi piacerebbe questa con quella specie di kimono che avevo comprato sempre a 2 euro al mercato secondo me sta bene perchè eh... si non si vede che cioè posso mettermela anche così da sola ma anche eh... messa come sotto anche sotto delle camicie lunghe perchè è una diciamo un capo neutro ecco e mi ha preso questo poi mi ha preso questo reggiseno che è super carino così si vede è tutto di pizzo con tutti eh... ricamati non so come si dica fiorellini e rosa proprio cottagecore ovviamente col ferretto senza imbottitura perchè non ho bisogno e... bello super carino questo l'ho pagato 2 euro non ho capito in quale pancarella l'ha preso perchè a saperlo ne prenderei altri se ce ne fossero bello comunque molto molto cute questo reggiseno e questi sono gli acquisti che ha fatto mia mamma per me e poi eh... faccio uno stacco pubblicitario non scherzo non... non è una pubblicità aspetta aspetta volevo solo dirtelo solo che non c'ho vlog e momenti l'ho detto già su instagram quindi se mi segui su instagram mi trovi con l'omecate splendente e già lo sai e invece volevo già anche mostrare perchè l'ho provato prima o poi volevo aspettare per dirti parlarti di questo e l'ho provato ad action farina del mio sacco non mi è stato donato o così del genere l'avevo visto su tiktok che ne parlavano ed è una specie di profumo per capelli però ha la chiratina estratto di piante naturali ha oli naturali e panthenol che non ho capito cos'è però oltre a fare un profumo che comunque dicevano su tiktok un profumo di fiori non sa da fiori cioè perlomeno i fiori che ho usato io non hanno questo profumo ha la profumazione identica a un sapone un detergente per il viso di Lidl della Sien che ha la confezione azzurra trasparente la stessa profumazione che non mi garba tantissimo si può spruzzare sia coi capelli umidi o anche asciutti e me lo sto dando sia dopo lo shampoo già mi asciugo i capelli un po' col phon perchè c'è tanto caldo sto lasciando i capelli asciugare un po' così senza phon ecco perchè c'è troppo caldo e mi viene da vomitare dal caldo che c'è col phon quindi sono sensibile e e me lo spruzzo uno sud sui capelli faccio tanto sai che io so fare il beatbox dello spruzzo dappertutto e poi una volta al giorno ogni tanto mi do una spruzzatina boh non lo so a me sarà un effetto placebo non lo so ma mi sembra di avere il capello un po' come se fosse più pulito non so come spiegarlo perchè nonostante il caldo sudore e tutto ho trovato questa combinazione che uso uno shampoo alla camomilla che probabilmente mi secca la cuta e non lo so ho imparato anche che mi lavo strofino solo la parte della testa e il resto faccio solo così e e lascio tipo scivolare giù lo shampoo sulle lunghezze e i capelli mi restano come sembrano più puliti cioè io mi lavo i capelli una volta a settimana perchè ho scoperto che me li lavavo troppo ed era per quello che dopo sembravano unti sembrava un paradosso ma effettivamente funziona me li lavavo solo il venerdì e venerdì oggi è mercoledì quindi sono ancora belli e la combo che ha esposto anche questo non so se se anche questo sta aiutando questa situazione bastava solo prima non lo so comunque se effetto placebo io mi vedo comunque i capelli più sani sembrano più puliti meno unti nonostante appunto ci sia stato quel mega caldo studavo oppure mi sono presa la pioggia non importa ho sempre belli gonfi belli puliti ecco non so come spiegare prima magari mi lavavo di più i capelli ed erano sembravano sempre unti e invece adesso non lo so non ho ben capito come quelle persone che si lavano troppo la patatina e gli vengono le infezioni ecco uguali è una cosa così tipo che dici ma come dovrebbe essere il contrario misteri della vita ok allora chiusa parentesi insomma un po' un misto di acquisti quindi ecco non è solo il mercato e tornando a noi sono stata al mercato mancavano un bel po' di pancherelli ma questo non mi ha impedita non mi ha impedito di fare acquisti fare shopping anche perchè anche se spendo tipo solo 50 centesimi mi sento felice mi da proprio una cura contro la tristezza è proprio il fare shopping perchè forse mi mi concentro su lo shopping sul guardare le pancherelle la passeggiata sta in mezzo alla gel non lo so non lo so questa volta perlomeno mi sono ricordata di chiudere lo zaino top ecate bravissima super top e tra l'altro visto che make up oggi ti ho sfornato dorato e marrone rosso scuro perchè ho questa adish e ci si abbina cioè non so si sono visti gli occhi la scritta secondo me si abbina come i colori è che non lo vedi il perchè di questi colori perchè appunto non si vede la maglia però tu lo sai adesso allora appunto mi sono mi perdo sempre i miei discorsi aiuto allora sono andata al mercato e sono arrivata alla pancherelle da 50 centesimi avevo trovato una camicia a maniche lunghe veramente strana con tutti dei cagnolini tipo un bulldog però era veramente troppo trash anche per me non l'ho presa e c'erano delle altre camicie ma erano tipo troppo trasparenti e non le ho prese allora ho detto sai che c'è chissane delle camicie andiamo su il periodo perchè mi sto portando avanti quei video credo che questo esca martedì 27 quindi siamo ancora ad agosto e perciò stiamo entrando verso settembre e perciò perciò compriamo anche se perchè di camicie lunghe ne ho tante cioè con le maniche lunghe ne ho già tante che devo solo un attimo ricercarle mettere via bene stirarle e decidere di nuovi outfit che ho già in mente che porterò però anche in bocca e allora ho trovato queste due che non sono né carne né pesce due maglie sono allora una nera e un colore che adesso che ci penso assomiglia molto al colore che ho usato è stata una coincidenza che è molto autunnale come colore tra un rosso mattone diciamo tra il marrone e il rosso scuro beh sono maglie maniche lunghe con il cappuccio ma non sono felpe o meglio potrebbero essere felpe ma felpe molto leggere quindi io le accosto nella mia mente di più a una una maglia maniche lunghe di cotone però hanno il cappuccio quindi possono essere considerate sia felpe leggere o sia una maglietta cioè capito però col cappuccio quindi è perfetta perchè in autunno piove c'è vento le foglie cadono e non c'entra niente e però comunque le vibes sono quelle che non si sa se c'è ancora caldo se c'è freddo magari il mattino c'è freddo poi dopo viene caldo e oppure la sera viene freddo oppure potrebbe essere caldo è un casino e quindi non ci sarà quella temperatura né carne né pesce e quindi secondo me ci sta da dio una maglia che non è né carne né pesce in più ho pagato a 50 centesimi e ancora sta ancora meglio la maglia in questione è fatta così con i bottoncini ha il cappuccio con queste questa culisse non so si chiama culisse anche dei cappucci e bianca che stacca un po' perchè qui ha un piccolo logo bianco non so che marca sia ah però la marca è Jack & Jones non l'avevo vista è Jack & Jones Originals from past to present c'è scritto denim clothing company 1990 è la Jack & Jones cacchio ma sembra nuova comunque secondo me è una di quelle cose che appunto non sai quando metterti e probabilmente è stata acquistata messa tipo una volta e poi dopo c'è capito non so perchè è perfetta è perfetta comunque ho fatto anche il video dove la indosso tipo sfilata che è una musica di cos'è questa? aspetta uomini e donne quando scendono dalle scale o non so oggi mi fa così forse perchè vedi lunedì ero triste non solo lunedì però poi martedì il mercato e oggi sono felice ecco un posto bene se bastasse così poco dovrei andare al mercato ogni giorno forse no sarei troppo povera anche se con 50 centesimi non è che spendi chissà cosa vabbè comunque poi sono stata finanziata anche da Francesca quindi Francesca cosa ne pensi? approvata guarda io non ho preso la camicia però secondo me queste maglie velpe non so come chiamarle potrebbero essere approvate da Francesca non lo so tu creatura cosa ne pensi? poi ho preso questa che è poi non ho ben capito perchè quella nera è XL e mi sta giusta abbondante anche se vogliamo dire perchè è abbastanza lunga dopo io me la tiro su un po' questa S e mi sta uguale mi sta uguale perfettamente come può essere che ha una S ok che sono due marche diverse ma il modello è quello vabbè comunque questa qui sempre 50 centesimi ha questo bel colore che spero si veda proprio uno dei classici colori che ti fanno pensare all'autunno e adesso che ho visto che è lo stesso colore che ho usato anche come ombretto posso anche truccarmi abbinata ha una scritta American Eagle con l'aquila qui e questa parte con la scritta con l'aquila è in vellutino arancione è super morbida e anche ed è uguale però questa davanti una tasca quindi ricorda proprio una felpa il cappuccio il cappuccio e anche questi qui sono abbinati quindi tutti dello stesso colore e questa è una taglia S non si sa come ma è una taglia S e dice made in Vietnam super soft si è scritto è vero è morbida l'ho messa l'ho messa così senza niente nel video mettiamo di qua quella quella invece di Jack Jones ha anche un bottone di riserva nell'etichetta mi piacciono queste cose, questi dettagli e dice 100% cotone perché è tanto morbida capito quindi appunto me la sono messa con sotto cioè solo quella e sotto che ho solo il reggiseno ed è proprio morbida quindi secondo me entrambe sono 100% cotone quindi adesso appena ci sarà una giornata ucciosa così che né caldo né freddo penso che me la metterò, magari posso tirarmi sulle maniche però se piove o c'è un po' di arietta ho il mio cappuccio quindi bella per 50 centesimi Francesca, Francesca, grazie è come se mi avessi fatto il regalo e poi voglio sapere anche creatura cosa ne pensi mio papà l'ha vista, mi ha detto vieni comprati due nere sì due nere come faccio già è stato un caso che ho trovato nella stessa bancarella quelle due visto che era roba usata quindi magari era della stessa persona o coincidenza magari lì ci vanno tutte le donne a guardare e quella lì è un po' più da maschio magari non lo so unisex trovi raramente dei giovani a guardare questa tipologia di bancarelle o il mercato in generale a meno che non trovi qualche personaggio strano tipo me che ho visto anche dei ragazzi un po' così un po' specchini no, specchini non in quel senso nel senso un po' diversi ecco che non guardano quello che va di moda ma indossano quello che vogliono e non ce ne sono tanti quindi e quindi sono rimaste lì capito entrambe anche se penso che prossimamente al mercato ci saranno sempre cose più invernali quindi non ci saranno più le t-shirt eccetera eccetera e quindi ci sarà più probabilità di trovare queste cose anche tra le cose da 50 centesimi penso e il tipo che era lì alla pancherella che è sua che è un indiano credo perché credo sia indiano dai lineamenti e dalla carnagione e ha cercato di dirmi qualcosa ma non ho capito cosa perché non era una lingua che io conosco perché lui sa dire solo ciao come va e ha detto ciao bene tu bene mi ha detto e dopo mi ha detto una parola che non ho capito e continuavo a dirgli come scusa e lui me la ripeteva e io pensavo dentro di me che cacchio vuol dire perché in italiano non vuol dire niente sembrava tipo come poi non capivo bene neanche già avrei dovuto vederla scritta capito e perché non ha detto tipo sembrava tipo un misto tra la parola denim e dennis che è un nome cioè io percepivo quelle due parole lì ma non ero neanche sicura se io dicevo ma in italiano ho detto cos'è cosa vuol dire lui fa non lo so insomma voleva dirmi qualcosa e però appunto non non siamo usciti a comunicare perché lui sapeva solo ciao come stai e bene basta e magari sa dire grazie non lo so le cose che servono effettivamente al mercato perché nella banca della 50 centesimi non è che vai a chiedere ce l'hai un altro modello cioè o quello o quello cioè capito e quindi niente sono rimasta così chissà cosa mi ha detto però mi avete sempre comprare perché adesso praticamente la tradizione è che compro sempre almeno qualcosina lì perché effettivamente con 50 centesimi prende le cose veramente belle tra l'altro è successo che in quella bancherella c'erano degli zingari io l'avevo detto che era da tanto tempo che non vedevo degli zingari al mercato e avevo notato questa cosa e come l'ho notata tal che il giorno qualche giorno dopo appunto zingari la loro cultura era un pari quindi ho detto no io ce l'avevo proprio dietro io con il mio zainetto che non avevo cioè potrebbero rubarmi anche le mutande non me ne accorcerei perché sono talmente concentrava a guardare le bancherelle figurati quindi ho sentito una musulmana dico musulmana perché hanno il velo e quindi penso siano musulmani se no non so come distinguerle una donna una donna ok ma le italiane di solito cioè ognuno di solito si fanno un po' i cavoli loro se queste rubano nessuno dice niente e perché hanno paura anche delle ripercussioni perché sono in tante perché arrivano in gruppo questi zingari no è praticamente una musulmana per quello volevo dire musulmana perché c'è avuto il coraggio capito ha detto al dis la banca della stia attento fa perché i due bambini hanno preso qualcosa e sono andati via quindi avevano rubato cioè vai a rubare una banca della da 50 centesimi e infatti una che io dico che sono le badanti perché sono sono tutte simili perché hanno la loro moda quindi le individui subito no che io le amo perché una badante di mia nonna io ero affezionatissima era troppo quando andavo io facevo io da mangiare per tutti e anche per la badante resta a mangerli quella del pulcino silvio era suo era suo il pulcino silvio è top se ti ricordi e insomma mi sto perdendo in troppe chiacchiere adesso ti mostro le altre due cose che ho comprato poi basta mi fermo qua e praticamente Sara è stata questa donna appunto la dedosi e si sono messa a litigare e la badante fa sei una poveretta che vai a rubare una banca della da 50 centesimi e si sono tutte litigate tra di loro io ero lì proprio in mezzo perché avevo la la zingara dietro e loro pian piano ho preso il mio zaggio loro litigavano io pian piano perché mi era venuto il dubbio che mi avesse aperto le cerniere e fregato perché avevo il telefono proprio nella tasca dietro cioè dietro quella davanti verso di lei ecco quindi loro litigavano e io pian piano questa è stata la scena che mi fa ci penso rito troppo loro che si sgannano e io che pian piano apro lo zaino e controllo poi ho visto che c'era tutto quindi ho detto vabbè a po' quindi erano concentrati nel rubare i vestiti e non dentro gli zaini e lui lo sa che io se apro perché mi viene sempre un po' l'angoscia che quando appoggio lo zainetto sulla pancherella che lo apro che non pensino che sto cercando di rubare invece sto solo cercando il portafoglio dentro perché lì non c'è tanto spazio se no vai addosso alla gente però non puoi con le cose che hai sul braccio spostarti perché anche lì possono pensare che stai rubando capito perché te ne vai con la roba e invece ti verrebbe da spostarti perché è lo zaino in comprante no e allora tutte le volte mi muovo tipo cercando di far capire che sto cercando il portafoglio e che non voglio rubare insomma io ho questa paranoia anche ma lui mi lascia sempre appoggiarla perché lo sa che non che non rubo che gli pago sempre tutto anche perché 50 centesimi è praticamente regalata poi sempre per 50 centesimi che fai non prendi un regalo per tuo padre perché inizialmente quella nera con le maniche lunghe ho detto beh potrei darla a mio papà e invece dopo ho detto cacchio me la tengo io perché sono andata una serata a vedere le stelle cadenti e lì mi ero portato a un maglioncino però col segno di poi ho pensato cavolo ci vorrebbe una bella felpina leggera trovata comunque ho preso questa bella t-shirt che ha dei colori veramente belli abbinati ha un po' di blu il bianco questa specie di verde acqua verde menta a pastello non so un misto tra verde acqua e verde menta e poi all'azzurro e il grigio come colori ci stanno benissimo insieme ed è praticamente nuova XL bella morbida anche questa sicuramente è di cotone è cotone organico perché dice for a better planet allora ho cercato su google il cotone organico biologico è l'alternativa al cotone tradizionale ed è frutto di coltivazioni trattate essenzialmente con fertilizzanti biologici che hanno un impatto generale sull'ambiente assai ridotto rispetto alle normali coltivazioni tradizionali eliminando pertanto pesticidi con cimi tossici chimici e punti quindi l'ho pagata 50 centesimi ed è anche una maglia che ha contribuito a non inquinare l'ambiente quante cose impariamo comunque in ogni hall del mercato troppe troppe e come ultima cosa tornando a casa verso sono tornata a casa presto stavolta verso le 11 alle 10 e mezza avevo già finito il mercato perché c'erano pochi bancherelli e poi si stanno avvicinando dei pericolosi e inquietanti nuvoloni neri no grigi neri quindi ho detto beh sai che c'è io me ne vado e anche se poi sono in macchina quindi tutto ok non succede niente però sai che c'è io me ne vado mi ero portata anche l'ombrellina stavolta nella pancherella dove avevo trovato il vestito da principessa rosa che anche lì ti dirò e a sempre 2 euro ho trovato questi pantaloni della marca holiday non conosco sono tipo jeans ma sono leggeri quindi non credo siano di jeans non so sono belli sottili leggeri giusti per questa questi mesi qua e io il giorno del mercato mi ero messa dei pantaloni neri jeans quelli che avevo comprato sempre a 2 euro credo ma c'era troppo caldo non è stata una buona idea però al mattino quando ero partita c'era freschetto quindi ecco perché vanno bene i pantaloni lunghi ma non troppo pesanti per queste situazioni qui dove al mattino c'è freddo dopo viene caldo eccetera eccetera che non sono corti ma comunque non sono pesanti e stava giusto appunto quella maglia lì che dopo ti diri sulle maniche non è troppo pesante però ha la manica lunga cioè capito hai capito le vibes del periodo e anche di questa di questo shopping vabbè e sono lunghi però credo che siano quelli che vanno di moda che a me non piazzano tanto però vabbè per una volta me li posso anche mettere e cioè mi devo solo abituare all'idea che suonano lo spacchettino qua a mia mamma vi sono tanto questi e vanno tanto di moda a Rovigo ho visto un sacco di ragazzi ragazze che ne hanno che stanno con un po' di caviglia fuori a me dà fastidio ma io mi tirerò su i calzini e ciao tanti cari saluti perché mi dà fastidio avere la caviglia di fuori perché mi entra l'aria anche se c'è caldo ecco quindi quindi Francesca fammi sapere se i miei acquisti sono stati approvati come sempre io cercherò di andare al mercato se non riesco a portarti comunque dei contenuti così frezzantini con outfit delle cose che abbiamo acquistato che poi dopo tu puoi anche riguardarti i video e dire però ecco te questo potrebbe stare con questo eccetera eccetera e fare degli abbinamenti inventati da te io sarò la tua gira alla moda per chi non sapesse cos'è gira la moda negli anni 80 90 c'era questo gioco di plastica magari metto la foto da qualche parte dove praticamente letteralmente erano come tutti dei cerchi che tu giravi e decidevi le combinazioni non so c'erano la ruota con tutte le maglie top e la ruota con tutte le gonne i pantaloni e tu creavi la combinazione poi mettevi sopra il foglio erano in rilevo e con una matita o un cessetto ci passavi sopra e si creava il disegno con l'abbinamento e l'outfit che tu avevi scelto quindi saremmo tipo così tipo gira la moto perché mi fa ridere era un gioco bellissimo che a noi non hanno mai comprato ma mia cucina ce l'aveva e potevamo solo guardare lei che ci giocava non ti dico altro non ce lo faceva neanche provare quindi mi è rimasto qua capito come sempre grazie per i tuoi like grazie per il tuo supporto creatura noi ci vediamo nel prossimo video buonanotte buon relax ciao creatura grazie per la visione